La video ricetta sui vignè alla nocciola La video ricetta sui vignè alla nocciola In una casserola portare l'acqua ad ebollizione, aggiungere del burro e quando è ben sciolto aggiungerci la farina Mescolare energicamente fino ad ottenere un composto ben compatto Spostare il composto in una planetaria e con un gancio a palma iniziare a far girare il tutto Aggiungere un uovo alla volta fino a che sia ben amalgamato Procurarsi delle placche e ricoprirle con della carta da forno Spostare il composto in una sacca poche e iniziare a dosare il contenuto in piccole quantità Infornare a 180 gradi per 30 minuti Nel frattempo Far montare la panna in una planetaria con gancio a fusta Dopo essere stata montata, aggiungere la pasta di nocciola E mescolare con un cucchiaio energicamente Fino ad ottenere un composto omogeneo, la crema da nocciola Quando i bignè sono pronti, lasciarli raffreddare Procurarsi una sacca poche e introdurci la crema di nocciola Riempire ogni bignè con la farcitura E passare la parte incisa sulla granella di nocciola Disporli in un vassoio e servirli Riempire ogni bambino